E' stata aggiunta una terza data del Songs of Experience Tour degli U2 al Mediolanum Forum di Assago, Mi. Oltre all'11 e al 12 ottobre, concerti sold out, la band irlandese Capitanata da Bono si esibirà nella venue milanese il 15 ottobre. I biglietti per il terzo live degli U2 sono in vendita sui circuiti Ticketone e Ticketmaster e in tutti i punti vendita autorizzati a partire dalle ore 10.00 di venerdì 2 febbraio. Gli iscritti al fanclub U2.com avranno l'opportunità di acquistare i biglietti in anticipo a partire dalle ore 10 di martedì 30 gennaio, fino alle ore 17 di giovedì 1 febbraio. Inoltre, i fan che hanno preordinato l'album Songs of Experience, prima del 30 novembre 2017 e negli store che hanno preso parte all'iniziativa, avranno l'opportunità di partecipare alla presale a partire dalle ore 10 di mercoledì 31 gennaio, fino alle ore 17 di giovedì 1. Gli iscritti a milivenation a sulivenation.it potranno accedere alle prevendite a partire dalle ore 9 di giovedì 1 febbraio, fino alle ore 17 dello stesso giorno. Grazie a tutti.